Come Polizia Postale ci occupiamo di vari elementi, ma soprattutto viene focalizzato sul discorso attuale del cyberbullismo, delle truffe online, tutto quello che riguarda comunque il mondo del web. Servizi che verrebbero a mancare, così come i corsi nelle scuole, sull'uso dei social network. Già, perché con la razionalizzazione proposta dal Ministero dell'Interno, gli uffici di Polizia Postale di Rimini, come del resto quelli di Ravenna e Forlì Cesena, sono stati chiuderebbero lasciando attivo in regione solo quello di Bologna. Dopo la riduzione degli agenti riminesi da 9 a 5, sindacati e dipendenti non ci stanno all'ulteriore taglio. Non vogliamo che scompaiano quindi i presidi locali della Polizia Postale delle Comunicazioni, perché sono importanti, sono una specificità della Polizia, gli agenti sono altamente preparati e sarebbe veramente una riorganizzazione nefasta, specialmente per la popolazione, per la cittadinanza. Logistica, strumentazione e corsi di aggiornamento sono tutti a carico di poste italiane, per cui i manifestanti non comprendono le ragioni economiche del piano. Per cui è solo fumo negli occhi, loro vogliono mettere in mano al personale, trasferendolo nelle questure, il governo invece di assumere nuovi poliziotti gli sposta come delle pedine. Quindi noi come federconsumatori diciamo no alla chiusura dei presidi di Polizia Postale sui territori e in particolare sul territorio riminese, che a fronte anche di tutte le problematiche del turismo ha bisogno di questo tipo di servizio specializzato. Grazie. 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 Grazie.